Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento che la state guardando. Vi piace lo sfondo? Ebbene, questo è l'Arcangelo Michele con la nuova terra, il nostro pianeta che scenderà in una frequenza di luce, di amore, di pace, di guarigione. È una delle illustrazioni delle mie carte che presto pubblicherò, quindi ogni lettura adesso metterò una carta diversa giusto per mostrarvi che disegni meravigliosi stanno uscendo fuori. Bene, iniziamo con la nostra lettura. La lettura è valida per una settimana. Sceglierò tre mazzi di carte. Farò una lettura di tre gruppi, volevo dire, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Adesso faremo una preghiera all'Arcangelo Michele, una preghiera di protezione dove voi potete chiedere all'Arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi, qual è la lettura più giusta per voi. Potrebbe essere uno, due o tutte e tre i gruppi. Ascoltate il vostro cuore. Bene, iniziamo con la preghiera di protezione. invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te Arcangelo Michele, coscienza amica elica, maestro Gesù, Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero. Vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo con amore di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte che con tanto amore stanno ascoltando la nostra lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie coscienza amica elica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora per sempre per l'eternità. Vediamo gruppo A, abbiamo dei cicli, vedete le carte, sì, ok? Gruppo A, cicli. Che bello l'Arcangelo Michele, è vero? Rinascita per il gruppo B. Gruppo C, espansione. Si mimetizza quasi con, aspettate, vorrei riuscire, ok? Espansione, ok? Vediamo le carte delle fatte. Mi piace questo sfondo, veramente il mare, bello, bello. Allora, celebrazione per il gruppo A. Gruppo B, speranza. Vediamo il gruppo C. Divinazione, interessante questo. Ora vediamo le altre carte delle fatte, perché veramente mi sento molto connessa con la natura, sto uscendo tantissimo a fare delle lunghe passeggiate, a fare affermazioni positive, ad ascoltare, cosa gli angeli hanno da dirmi, quindi vediamo cosa ci vogliono dire le fattine attraverso l'Arcangelo Michele. Allora, gruppo A, gentilezza. Scusate, aspetta, se riusciamo a... Aspettate, ce la devo fare. Curiosa questa cosa. Aspettate, forse è lontananza. Ecco, gentilezza. Aspettate che ne sono cadute troppe. Gruppo B. Gruppo B, armonia familiare. Bene. Bene, bene. Gruppo C, possibile guarigione. Interessante, assolutamente. Allora, iniziamo la nostra lettura angelica. Gruppo A. Abbiamo un ciclo che si chiude, un nuovo ciclo che si apre. È stato un periodo abbastanza difficile per te. È stato un periodo in cui hai avuto tante sfide. Diciamo che questo è passato. Lascialo andare. Non aggrapparti al passato. Sta iniziando. C'è un nuovo inizio alle porte. Assolutamente. Tutto arriva al momento giusto. Diciamo che assolutamente abbia fiducia che tutto sta rinascendo. Vedete? Non è a caso questa immagine. Tutto sta ricominciando in una nuova energia, in un nuovo flusso. Affidati al flusso. Affidati a quello che sta arrivando. Abbiamo celebrazione alle porte. Vedete? C'è una fatina e un fatino che stanno danzando. Quindi assolutamente potrebbe essere una ricongiunzione o una celebrazione nella coppia, ma potrebbe essere una celebrazione anche nel tuo lavoro, nei tuoi sogni. Va bene? Quindi è venuto il momento di danzare, di ballare, di aprirti al nuovo perché stanno arrivando grandi opportunità nella tua vita. Quindi ci sarà da celebrare qualcosa di grande, di positivo e di meraviglioso. Sii gentile. Sii gentile con chi? Con te stesso, con te stessa, ma anche con le altre persone. Datti il permesso di amarti, di volerti bene. Fai delle affermazioni di meraviglia, di grandezza e di benevolenza nei tuoi confronti, come io mi amo, mi accetto così come sono. Guardati allo specchio e dici ti amo, ti voglio bene, ti benedico, ti perdono. Sei meravigliosa o sei meraviglioso, sei grande, sei un leader, una leader, sei stupenda. Parlati con o guardandoti allo specchio dicendo tu, tu sei meravigliosa. Oppure io mi amo, io mi benedico, io mi voglio bene, ok? È molto importante il linguaggio che noi abbiamo con noi stessi e che trasmettiamo al nostro inconscio, va bene? Ok, vediamo ora il gruppo B. Gruppo B, rinascita, anche per voi è un momento di rinascita, è un momento magico, va bene? Rinventa te stesso, rinventa a te stessa, vivi la vita dei tuoi sogni, crea una nuova realtà. Diciamo che l'invito da parte degli unicorni, degli angeli, delle fate, degli esseri della natura è quello di lavorare nella creazione di una nuova realtà. La nuova realtà noi la creiamo come attraverso il nostro linguaggio, le nostre affermazioni, più pensieri positivi a costo di stare tutto il giorno ad affermare quello che tu desideri come che è già compiuto. È importante riprogrammare l'inconscio perché quello che crea la realtà è l'inconscio, quindi se voi avete dei programmini un pochino distorti li potete resettare e potete creare una nuova realtà. L'invito è a creare una nuova realtà. Assolutamente c'è speranza per la manifestazione dei tuoi sogni, c'è speranza per una ricongiunzione, c'è speranza perché tu possa trovare il lavoro dei tuoi sogni, c'è speranza perché tu possa sanare questa situazione, va bene? Assolutamente aspettative positive possono aiutare a trasformare anche una situazione negativa in una situazione positiva perché i tuoi pensieri creano la tua realtà, le tue emozioni sono potenti. Ho visto alcuni video sulla manifestazione dell'abbondanza dove alcune persone sostengono che è il pensiero che crea e l'emozione no. Io vi posso garantire che noi creiamo, il pensiero è creativo, è potente, ci mancherebbe altro, ma quando noi abbiamo delle emozioni molto negative, molto positive, noi creiamo lo stesso. assolutamente le emozioni sono il nostro regolatore di frequenza, quindi è fondamentale che abbiamo emozioni positive. Farò un video dove parlerò di questo, ok? Armonia familiare per voi, quindi se ci sono stati dei problemini, delle discussioni, diciamo che queste cose verranno superate in quanto c'è armonia alle porte, quindi nel prossimo futuro vedremo dei cambiamenti positivi, riconciliazioni, pace, serenità, gioia, passate più tempo con la famiglia, con i vostri cari, i vostri amici, il vostro partner o la vostra partner, fate una vacanza, se non avete la possibilità economica di fare dei lunghi viaggi, potete fare un weekend, una giornata al mare o in montagna, cercate di uscire dalla solita routine, va bene? Bene ragazzi, passiamo al gruppo C, gruppo C espansione, assolutamente, assolutamente, come si dice, apri leali, alle nuove opportunità, veramente, è venuto il momento anche di condividere il tuo messaggio di luce, fallo come operatore, operatrice della luce nel tuo lavoro di tutti i giorni, ma anche con le persone, non c'è bisogno, non devi convincere nessuno, sia esempio di amore in terra, va bene? Praticamente è venuto il momento di mostrare al mondo chi tu sei veramente, nella tua completezza e totalità. Assolutamente, la divinazione è utile per te in questo momento, perché ti può aiutare a fare chiarezza in questa situazione specifica della tua vita. Divinazione può essere il pendolo, sempre con la protezione, mi raccomando, anime infinite, oppure l'utilizzo delle carte. Quando le cose si fanno con il l'integrità, con intenzioni pure di amore, con amore, assolutamente, l'amore divino, gli angeli, le energie che vi stanno aiutando in questo momento a manifestare i vostri sogni, vi aiuteranno a fare chiarezza, quindi rivolgetevi agli angeli, rivolgetevi all'arcangelo Michele. Vi consiglio di rivolgervi agli angeli della coscienza micaelica, che sono appunto gli esseri di luce più potenti in assoluto, più luminosi, che vi aiuteranno insieme all'arcangelo Michele a fare chiarezza in questa situazione. Ok? Tu hai l'abilità di vedere la situazione attuale con chiarezza, tu hai il potere di fare chiarezza, quindi meditazione, utilizzo delle carte, l'utilizzo della connessione diretta, hai bisogno di ritrovare il tuo spazio sacro, armonico e protetto per prendere qualsiasi tipo di decisione. Ok, possibile guarigione in questo momento, possibile guarigione potrebbe essere fisica, mentale, emozionale e spirituale per te o per i membri della tua famiglia o per un tuo caro o per il tuo partner, quindi nel prossimo futuro assolutamente ci sono eventi positivi alle porte, possibile anche guarigione delle tue finanze e anche guarigione e liberazione di tutti quei blocchi che ti stavano impedendo nel passato recente di manifestare i tuoi sogni. Va bene? Ok? Bene, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura, volevo anche prendere un messaggio, chiediamo all'arcangelo Michele, guida ed assistenza, qual è il messaggio più giusto per questa settimana per tutte le persone coinvolte. Ok, i tempi sono maturi e tu, ragazzi, non è un caso che ho messo la foto della nuova Terra, questo io l'ho voluta mettere per ricordarci che in questi tempi finali, anche se nella 3D vediamo tutto incasinato, tutto un caos, in realtà le frequenze più alte in assoluto stanno lavorando per manifestare il nuovo paradigma di amore e molti stanno già assistendo a questi eventi magici. Certo, se guardiamo il telegiornale, ci focalizziamo su eventi completamente negativi, entriamo nel caos, entriamo nella paura, ma se noi creiamo la nostra realtà personale attraverso i nostri pensieri, mandiamo pensieri di amore positivi anche per la Terra, mandiamo pensieri di guarigione o luce per chi lavora con le nuove frequenze, o per chi lavora con il Reiki, per chi lavora con il planning killing o altre modalità di guarigione, trasmettiamo luce e frequenze alla Terra, al pianeta, agli animali, alle persone che in questo momento stanno vivendo grosse difficoltà. Ogni giorno io prego per tutta l'umanità, per tutti gli animali, per i miei cari, per i miei clienti presenti, passati e futuri, per i miei amici, per tutti coloro che non sanno come a chi chiedere il nome dell'amore. Quando noi facciamo questo, in comunione di intenti, creiamo il nuovo paradigma di amore. È molto importante, ricordiamoci che siamo creatori, possiamo scegliere se essere inconsapevoli e quindi essere vittime, tra virgolette, delle creazioni degli altri, oppure creare noi la nostra realtà, ok? I tempi in realtà sono sempre stati maturi e da tempo ti aspettavano e ti aspettano, invitandoti a seguire il tuo futuro. Non lasciarti suggestionare dalle difficoltà, dai pareri negativi e dalle paure. La maturità si misura anche in questo. Bene, anime infinite, per chi non lo sa, io mi occupo di facilitare la lettura angelica con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta, ok? In più, trasmetto le nuove frequenze di luce per aiutarvi a ritrovare il equilibrio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, e mi occupo anche di riprogrammazione, di manifestazione e di liberazione con logo sealing dai sistemi di credenze, i blocchi e le paure e tutto ciò che vi sta impedendo di essere in allineamento energetico e vibrazionale, ma anche di manifestare quelli che sono i vostri sogni e i vostri obiettivi. Naturalmente questo lavoro è un lavoro per chi è consapevole di essere creatore della propria realtà e per chi non lo è, perché non provare e vedere per credere, ok? Se siete un po' Sant'Omaso vi posso garantire che con queste sessioni di coaching voi cambierete la vostra prospettiva della realtà. Volevo informarvi che a partire dall'11 di agosto partirà la nuova classe di guarigione con le nuove frequenze di luce online da casa, la classe sarà composta massimo da 10 partecipanti, mancano 7 posti disponibili, sempre ad agosto partirà il corso di connessioni angeliche, 6 settimane, sempre online da casa, online ma dal vivo, va bene? Sono corsi dal vivo che faremo su Zoom, quindi praticamente questo partirà il 21 di agosto, va bene? Se non riusciremo a creare una classe partirà il 4 di settembre. Comunque per chi invece vuole vivere l'esperienza dal vivo in presenza con le nuove frequenze di luce, il nuovo seminario partirà il 21 di ottobre fino al 24 ottobre, 4 giorni. Per chi invece vuole fare solo il seminario di guarigione saranno due giorni, 21 e 22 ottobre. Per maggiori informazioni potete guardare il mio sito connessioniangeliche.com o contattarmi direttamente e vi manderò tutte le informazioni necessarie. Io vi saluto, vi amo, vi benedico, spero che insieme manifesteremo una terra di amore, di pace, di guarigione, di bellezza e di abbondanza comune per tutti. Un bacio a tutti, a presto, ciao ciao!